buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video del toto che va dentro gli alberi per una volta non siamo in moto diano marina ragazzi è vero se non dopo la gente mi cazza se si inizia a parlare e poi mi cazza se non dico come vedete c'è il cartello antenne radiazioni radioattivo sento già un po di arietta vediamo chi vola per primo sul salto nel blu lui è più local di tutti si c'è un droppettino oh madonna senti che vento salto nel blu eccolo si vola oh che vento ah va che bello il mare oggi chi taglia di più i copertoni no vince sapete cos'è la cosa più difficile quando stai dietro e non ti ricordi i trail è che non vedi il trail davanti a te quindi in realtà è meglio stare un filo più orca tirato una spallata con l'albero lì comunque mi siete un pelo un salame a petola di ma un pochino anch'io ti dirò ma lui parte come se noi conoscessimo i trail quando invece non li abbiamo mai visti praticamente ma li abbiamo vissi una volta dai non diciamo stupidate ah tra l'altro ragazzi questo momento sto usando la disina rose root miller e vabbè ma se frena un po' di meno puoi fare tanta forza sulle leve ma quanto parla? ma parla tantissimo ragazzi se volete infastidire Ivo quando andate a girare Ivo c'è il recinto per te qua tengono le mucche e la strada per Ivo è su di là ok ok e non ridere vai su ah hanno fatto dei lavoretti che si sgappa freestyle freestyle come ogni volta abbiamo il nostro buon Fabio che con il nostro bellissimo TK Trail Express ci porta su e giù oggi questo video serve per farla rapida io tipo toccagli la fronte così proviamo ah non reagisci oh nell'occhio ancora nell'occhio questa è una moto Berlusconi? ma non è che si mi piace vi do un minuto per presentarvi salve io sono Riccardo sono un alcolista anonimo Daniele no anche tu sei local vero? ma tu sei il valore di Diano? ma tu da quanto giri? ci sono delle varianti rispetto all'ultima volta certo dobbiamo fare i complimenti al comune di Diano che hanno deciso di stanziare un fondo sembrerò ruffiano ma no ogni volta mi piace proprio il clima che si respira qua in Liguria nel senso che salire così a girare con la jeep vi lascio il profilo di The King in descrizione ragazzi così se volete chiedere informazioni per prenotare il vostro giro sul TK Trail Express oh via com'è rasti saltini doppietti carini carini però bello mi piace vai giù ah giuro che non sono stato io bravo puntaglielo lì bravo l'hai fatto sbagliare mi è piaciuta questa fata buona 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 devo filmare buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video del trotto che va dentro gli alberi no hai bucato Ivo signor Ivo ha bucato ma come lui usa gommina veramente leggera la Nobby Nick quella proprio più morbida che va bene è peso leggero ma ragazzi quando si gira su trail così con rocce così affilate vi consiglio quando andate su trail così prendete sempre le gomme con un po' la spalla rinforzata comunque il copertone è bello cattivo bello duro in questo caso ragazzi sto usando la Magic Mary all'anteriore e la Hans Dampf al posteriore vi consiglio di guardare il sito perché ogni copertone ha diverse mescole a seconda del terreno e dell'utilità che ne volete fare tra l'altro le camere d'aria che ho dentro non sono quelle super leggere proprio perché per evitare quello che sta facendo adesso io preferisco avere più peso sulla bici ma avere più sicurezza e quindi non dovermi fermare a cambiare la gomma no bucato bucato prendi pericolo coglione me la son tirata prima in un modo poi due secondi fa vai grazie comunque oggi è domenica e siamo ancora qua compiamo la gomma il giorno seguente il giorno seguente ringraziamo la Bea che mi ha regalato questa pompettina se no non ce la verrà neanche grazie Bea per averci parlato grazie Bea guarda che gli hai dato lì c'è un salto sei sui side subito Toto gigante cazzo vai tranquillo così almeno ti filmo bene cazzo ma alla faccia del tranquillo ragazzo alla faccia del tranquillo stai andando Fabio ma ci hai portato in un posto da freschissimi grazie se lo volete ragazzi gli uomini di mare mangiano le cose seri ok poi c'è il guppi che invece la buon lombardo la pasta con ragù facciamo un bel girato al tramontino mi vedi mi vedi sono anche qua sono anche qua occhio al venticello come al solito cazzo ma che bello è che a Milano non abbiamo tempo fighe grazie bello cazzo bello questo qua molto ritmico che buco attenzione è questa qua la pietraia di Whistler ragazzi molto bello mi è piaciuto è piaciuto che figata tutti in spiaggia si pesca qui dietro qui si rivedono le foto mi sento qua come un vecchio marinaio gli puoi dire te per favore cosa devo fare perché io glielo ripeto tutti i video ma quando va non mi ascoltano magari se lo dice qualcun altro sfruttateci seguite sulla pagina instagram iscrivetevi al canale mettete un like un commento un commento per Ivo con scritto Ivo non vale niente iscrivetevi al canale mi raccomando sigla